ok vediamo come fa cigola di frio cigola perché qua bisogna spruzzare qualcosa perché quando questo si muove stuscia su questa barra e cigola quindi adesso noi spruzziamo un po di svitol qua e vediamo se questo è un po di 40 spruzzatelo sul pennello girando andiamo ad appiccarlo vediamo se funziona ancora lo fa però adesso quello si molto meno così non lo fa lo fa qua adesso la situazione è molto migliorata fa solo un leggero un murillo che non so da dove forse ancora e adesso non lo faccio il cigoglio non c'è più perfetto spero che questo video ti sia utile se ti è utile lascia un like e iscriviti al mio canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao